20 marzo 2021 ecco com'è di sabato il Porto Gruaro adesso andiamo in centro perché siamo in zona all'esterno del centro questa è la parte di san gottardo della porta di san gottardo come vedete è ben trafficato di macchine nonostante le limitazioni come come vedete queste sono le famose lippolito nievo che erano lex elementari che adesso sono della scuola dello scientifico che sarebbe dove ci sono quelle biciclette quella struttura subito dopo quel blocco il blocco a del lippolito nievo sarebbe la scuola santa cecilia di musica scuola teatro che adesso vi faccio vedere in breve quello che vedete è l'ex segretario d'azienda attuale belli e come vedete la è la scuola lo scientifico di fronte l'ex segretario d'azienda quello è il famoso teatro russolo non so se si vede dato il sole ma adesso cerco di migliorare la situazione del video qua come vedete ci sono quando sono stati fatti pavimentazione una roba del genere dietro dietro la scuola qua ex ippolito nievo c'erano sotterrati e lo sono tuttora perché erano stati fatti dei lavori di ristrutturazione pavimentazione il c'erano dei resti archeologici riguardante un una chiesa che adesso vi mostro anche il tabellone questo vedete quello che se si vede quello che è stato messo in evidenza e purtroppo è stato la stato lasciato interrato per motivi tecnici questo sarebbe la struttura interrata che l'hanno dovuta coprire per motivi di spazio di cui noi non siamo a conoscenza delle motivazioni e questo è tutto il complesso del russo questo è il russo il famoso dalla in fondo fino alla in fondo lì dopo c'è l'ex nolex la cartolibreria soncin e un un bar che vi consiglio di provare ecco quella adesso vi mostro un attimo in velocità la chiesa che è sotterrata ritornando a noi adesso stiamo entrando in un centro storico lì è il bar la favernetta e adesso qua è la pizzeria rosticino che vi consiglio vivamente di provare che fanno delle buonissime pizze e lì in fondo dove vedete il plateatico c'è per chi non ha visto i video precedenti il bar ristorantino tecla che anche questo ve lo consiglio di provare e subito dopo dove c'è la gente che sta uscendo dalla rostecceria e la rostecceria al duomo che lì fanno dei spettacolari manicaretti perfetti impeccabili provatelo se venite a portogoraro adesso vi faccio vedere uno dei punti di portogoraro più belle e consigliate il duomo di santa della parrocchia di sant'andrea apostolo di sant'andrea apostolo ovviamente lì è il centro lì è il centro che avete già visto anche nei video precedenti per un posto particolare che dovete assolutamente provare il Jigger cocktail bar non ci fare il video che dopo ci fanno la bomba e il cane per l'assettamento ciao 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 ciao